E la Asla Pescara ad ospitare con onore l'evento Il medico eroe venuto dall'Istria, Geppino Micheletti. Siamo nell'estate del 46 e a seguito della tremenda esplosione nella spiaggia di Pola persero la vita 100 persone, tra cui i due bambini di Geppino Micheletti, il fratello e la cognata. Dopo la consapevolezza di questi lutti gravissimi, lui ebbe la forza psicologica di operare per 48 ore consecutive trascurando il dolore personale, anteponendo al dolore personale, alla tragedia personale, la voglia di assistere e soccorrere gli ammalati. Domani pomeriggio, dalle 16.30, nell'Aula Magna del Santo Spirito, lo storico Francesco Fagnani interverrà su Geppino Micheletti, chi era prima della proiezione del video Un eroe istriano a Narni, mentre Giulia Basel leggerà la testimonianza di Silvana Zimuel, esule da Pola, il Luna Park di Vergarolla. L'evento, patrocinato da Comune di Pescara, Regione Abruzzo, è organizzato dall'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia. Nella città di Pola, nel 1946 ancora città italiana e qui c'è l'altro aspetto, quello di aver condiviso con i suoi concittadini la tristissima esperienza della persecuzione titina prima e dell'esodo poi, che dunque rendono questa figura degna di nota.